A Teramo sembrerebbero essere diverse le scuole del comune intenzionate ad introdurre il tempo pieno o ad implementare per chi già lo effettua l'orario prolungato, ma per farlo hanno bisogno di realizzare una mensa o di potenziare i locali adibiti al servizio, tanto che sarebbero già diverse le richieste giunte in comune relative a nuovi punti mensa all'interno dei vari edifici scolastici. Diversi dirigenti scolastici ci hanno chiesto la possibilità di avere il tempo prolungato e ieri siamo andati con il sindaco e con il consigliere Lancione a visitare l'istituto comprensivo Serroni a San Nicolò dove c'è la richiesta del tempo prolungato per la scuola primaria e siamo andati anche a Sant'Atto dove c'è già una mensa all'interno della scuola ma lì ci viene chiesta una razionalizzazione degli spazi. Un tempo prolungato, ci sono diverse esigenze che le scuole hanno? Sì, ci sono esigenze diverse, chi vuole introdurre la settimana corta, chi vuole potenziare l'offerta formativa e noi cercheremo di accontentare il più possibile i dirigenti scolastici ma stante una razionalizzazione del servizio perché io qualche mese fa ho fatto un confronto con delle città di Mitrofe come per esempio a Scolipiceno e lì c'è da dire che esistono solo quattro punti cottura, a Teramo ce ne sono una ventina. Quindi questo tipo di servizio organizzato in questa maniera purtroppo oggi non si regge più volendo mantenere un servizio di qualità e possibilmente migliorare la qualità del servizio stesso. Quindi dovremo procedere a una razionalizzazione e un ripensamento complessivo in vista del nuovo bando per il servizio della mezza scolastica. Una riorganizzazione che prenderà il via con ogni probabilità il prossimo anno? Sì, l'appalto in essere scade a giugno per cui ho già predisposto delle linee di indirizzo introducendo il chilometro zero, potenziando il biologico, quindi cercando di migliorare assolutamente il cibo dei nostri bambini. Ovviamente a questo dovrà corrispondere una razionalizzazione del servizio perché dove ci sono punti cottura con una ventina di passi, 20-25 passi, purtroppo lì bisognerà ripensare anche quei punti cottura. Per questo stiamo lavorando in questi mesi proprio per far partire il prima possibile la gara e il bando.